Musica Dipingo da quando ero una bambina, anche se da poco ho deciso di mettermi alla prova e a confronto con altri artisti Le mie opere sono degli acquerelli perché adoro l'acquerello, è una tecnica che mi interessa tantissimo e quindi la sperimento continuamente Musica Sono presente alla mostra con due quadri, un quadro intitolato L'ingannevole bellezza, ispirato anche alla favola di Cappuccetto Rosso E un altro invece ispirato al consumismo sfrenato, ha un titolo in inglese perché io oltre a dipingere sono anche un'insegnante d'inglese E quindi Only Objects in My Minds Musica 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 Musica